Con Davide Del Monte, capitano del Talent Soccer, un pareggio arrivato alla fine che in 10 avete esultato come una vittoria perché era una partita importante, difficile, dura. Sì, si era messa male e abbiamo tirato fuori il carattere per provare a pareggiarla e questa volta ci siamo riusciti, anche sotto il piano del gioco, meglio in 10 che in 11, siamo riusciti a eludere la pressione degli avversari meglio nel secondo tempo. Anche perché tu occupi in mezzo al campo in 10 avete fatto un lavoro doppio, no? Sì, abbiamo messo proprio il cuore nel secondo tempo. Ok, l'avete affrontate tutte, Torinese, Cacelette, Valdruento, Valdruento ti sembra quella più ostica? Sì, considerando però che abbiamo giocato in casa contro le altre due big, io non mi sento di dire che una squadra è più forte dell'altra e quando andremo in casa loro sarà difficile come oggi. Ok, grazie Davide. Grazie a te. Grazie a te.